Oggigiorno è sempre più richiesta non solo ai dipendenti delle aziende ma anche ai cittadini la capacità di saper navigare in internet e di poter gestire gli strumenti digitali necessari ad accedere a determinati servizi online. Grazie ai fondi PNRR e alla Regione Veneto, Consorzio BIM Piave Belluno e SIT offrono ai cittadini supporto digitale attraverso corsi e iniziative formative gratuite. Il progetto prevede una rete capillare in provincia di Belluno dei cosiddetti punti digitale facile in modo che i cittadini possano accedere facilmente agli appuntamenti organizzati sull'utilizzo di internet e sui nuovi strumenti propri del web per utilizzare i servizi online. Sarà possibile partecipare sia in presenza che da remoto e il primo appuntamento sarà il 12 giugno con un corso pratico organizzato in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate sulle nozioni necessarie alla presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata per poter indiare in autonomia il proprio 7 e 30. Gli esperti che collaborano al progetto terranno incontri su moltissimi argomenti tra cui Open Data, le nuove tecnologie del digitale, la protezione della privacy, il riconoscimento delle fake news, la cittadinanza digitale, lo speed e molto altro. È possibile trovare tutte le informazioni e i moduli di iscrizione sul sito www.innovationlabdolomiti.it